È un lavoro lungo e complesso stabilire le reali proporzioni della marea nera, dei carburanti adulterati, contrabbandati da chi commercia frodando il fisco, riempendo le casse delle organizzazioni criminali, distruggendo i motori delle auto e danneggiando pesantemente la distribuzione corretta. Così investigatori e magistrati continuano i controlli e le indagini nel tentativo di fermarla. A distanza di 20 giorni dall'operazione Petromafia delle procure di Roma, Reggio Calabria, Napoli e Catanzaro, che aveva portato in carcere complessivamente una settantina di persone, tra cui imprenditori e vertici di Indrangheta e Camorra, è arrivata alla seconda ondata di provvedimenti cautelari. 49 gli arrestati, misure cautelari diverse per altre 7 persone, provvedimenti eseguiti questa mattina dai carabinieri del ROS e dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinati dal procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e dai magistrati della DDA. Un'infinità ai nuovi casi di operazioni inesistenti, corredate da un fiume di false fatture, da riciclaggio di danaro sporco e estorsioni, attività che ancora una volta erano guidate da appartenenti alla famiglia di Indrangheta dei Mancuso di Vibo Valenzi, ideatrice di un'operazione complessa di occupazione e di controllo di intere fette di mercato tra Calabria, Sicilia e Puglia.